A novembre devono pagare 300 milioni, miliardi, scusa? Devono rientrare l'investimento presto. Guarda, io non so che cosa sta succedendo in Milan. Ho tentato un paio di volte di contattare con gente del Milan, però era quasi impossibile. Non è bello questo, però io non so che cosa sta succedendo. È una società diversa, sono tutte gente diversa. Non so. In che senso era quasi impossibile riuscire a parlare? Ma io ho tentato di parlare con i dirigenti del Milan, non sono riuscito. Te li hai trovati chiusi? Non disponibili a parlare? Non so. Sempre di... C'era sempre scusa che ha un altro giorno, un altro giorno, dopo certamente l'ha lasciato. Ho detto, ok, va bene così. Ma è un po' dispiessuto. Con Passone hai provato a parlare? Io non dico con chi ho parlato. No, ma è un tentato, però non sono riuscito a parlare. Quando era... In passata era sempre facile, eri sempre benvenuti, così, non so. E con l'ex presidente Berlusconi ti senti? No, 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 no. Gagliano ho visto tante volte, ho visto in Ibiza l'anno scorso, all'estate. Sì, sono stato anche a Roma con Gandini, chiami, bam, subito, sei benvenuto, vai al campo pratica che va in ritiro, vai a essere... Così, l'Italia conosco così. Sai che è entrato in politica, Gagliano? Sì, io lo so, è stato... Vuole essere senatore, no? Vuole essere senatore, no? Sì, sì, non sapevo che Barone... Mi hanno detto anche oggi questo, so. Bocca lupo.